allora ragazzi oggi vi porto su clash royale perché porto di nuovo su clash royale perché guardate i metro fai ragazzi se faccio un'altra vittoria arrivo nella lega 4 maestro cioè non so se mi spiego raga sarebbe un traguardo assurdo comunque noi ci dobbiamo provare ma intanto apriamo questo bollo della corona niente di buono vabbè allora ragazzi let's go col multimedia alzato speriamo di farci livello 12 lui 10 io vabbè noi lottiamo lo stesso partiti alla grande abbiamo dimezzato lo svantaggio delle torri e mo siamo in vantaggio mai chiaramente abbiamo messo bellissima giocata da partecipi però noi abbiamo quasi curcato la torre the bellissima giocata da partecipi però no 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 bellissima giocata da partecipi però no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.